L'ora tanto aspettata e che si credeva non sarebbe mai giunta è infine arrivata. Rallegratevi, spaventatevi. Nel bene o nel male le cose volgeranno al termine e solo i piccoli temono le conseguenze delle loro azioni. Giudizio dunque ma anche esame. La carta ci parla di risveglio, notizie annuncia, risoluzione, prova finale e anche ricompensa, gioia immensa o panico sfrenato. Conseguenze delle proprie azioni dunque e intervento delle forze superiori. Momento cruciale.